In studio, Viviana Sammito. Buonasera, l'avete sentito dai titoli. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Dopo l'arresto dell'autista e dopo l'indagine a carico dei due medici, ma anche di Andrea Bonafede, che ha prestato l'identità al superlatitante, ex-latitante, oggi è stato anche scoperto il nome di un altro uomo che ha favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro ed è il proprietario del secondo covo rinvenuto proprio scoperto questo pomeriggio ed è proprio poco distante dall'abitazione dove viveva Matteo Messina Denaro. Ricori Salvato, di 70 anni, è il proprietario di questo bunker scoperto a Campobello di Mazzara e quest'uomo è risultato anche essere imputato nel 2001 per associazione mafiosa, poi assolto. Facciamo il punto nel servizio del direttore. Catiuscia Carpentieri. Enrico Risalvato, 70 anni, è il proprietario del secondo covo di Matteo Messina Denaro. Risalvato è stato indagato nel 2001 e poi assolto dall'accusa di associazione mafiosa. Il secondo covo si trova in un appartamento di Via Maggiore Toselli a Campobello di Mazzara a pochi metri dal primo covo in vicolo San Vito. È stato scoperto oggi dal GICO, della Finanza e dei Carabinieri del ROS. Dentro l'appartamento vi è una stanza blindata a cui si accede dal fondo scorrevole di un armadio pieno di vestiti. Risalvato ha consegnato le chiave agli investigatori, non trapela niente su cosa hanno trovato all'interno. Alla perquisizione ha partecipato anche il procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, che si è intrattenuto un paio d'ore dentro il covo. Insieme a lui il comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani, Fabio Bottino, e il colonnello del ROS, Lucio Arcidiacono. Gli investigatori sono arrivati alla casa grazie all'analisi di alcuni dati catastali. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, proprio lo screening su questa serie di informazioni, assieme ad un'analisi del contesto scaturita da un'attività informativa e investigativa, ha infatti consentito di localizzare il posto. Intanto il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ha dichiarato di aver avuto un breve colloquio con Messina Denaro, durante il quale gli ha spiegato che è nelle mani dello Stato e che avrà piena assistenza medica. Lui ha ringraziato, ha detto De Lucia. Il boss, che si trova rinchiuso nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato sottoposto questa mattina ad una lunga visita medica. malato di tumore al colon da un anno circa era in cura alla clinica La Maddalena a Palermo, dove poi è stato arrestato lunedì mattina. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno perquisito il reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate alla ricerca del primo esame istologico effettuato da Messina Denaro. Gli inquirenti stanno valutando la posizione del primario, Filippo Zerilli, così come le posizioni di altri medici, per capire se fossero a conoscenza della vera identità di Andrea Bonafede. Sulle condizioni di salute di Messina Denaro, vige il massimo riservo da parte dei medici. Si sa soltanto che si stanno esaminando documenti ed esami inviati dai medici di Palermo, per poi proseguire con la chemioterapia, che potrebbe essere effettuata in uno spazio riservato in carcere, alla presenza dell'oncologo, che dovrebbe essere il professore Mutti. Andiamo all'Aquila, nel carcere di Massima Sicurezza, dove ha recluso Matteo Messina Denaro, oggi è stata la sua prima ora d'aria, e dicono sia molto tranquillo, e si è già organizzato la cella. Facciamo il punto nel servizio. All'interno del penitenziario di Massima Sicurezza dell'Aquila, Matteo Messina Denaro ha già fatto la sua prima ora d'aria, si è organizzato la cella ed è molto attivo, mostrandosi sempre sorridente con il personale che incrocia nel carcere, secondo quanto trapela da indiscrezioni, che aggiungono il suo sarebbe un comportamento anomalo rispetto a come si comportano di solito i detenuti al 41 bis. A quanto si apprende da fonti informate, le sedute di chemioterapia potrebbero essere disposte in massima sicurezza in una struttura all'esterno del carcere. Matteo Messina Denaro non ha ancora visto né sentito l'avvocato Lorenza Guttadauro, la cui nomina fino a ieri pomeriggio non era stata ancora formalizzata. E' stato proprio il capo mafia di Castelvetrano ad indicare Guttadauro, che è anche sua nipote come legale di fiducia. La penalista è figlia della sorella del boss Rosalia e di Filippo Guttadauro, e mentre il boss è rinchiuso, al di fuori c'è chi vive un tormento. Sono i parenti delle vittime, i cui sentimenti sono di chi ha subito una scossa paragonabile ad un terremoto. Tra questi Irene Montalto, figlia di Gian Giacomo Ciaccio Montalto, sostituto procuratore a Trapani e ucciso dagli uomini di Totorriina quando lei aveva 12 anni nella notte tra il 24 e il 25 gennaio del 1983 a Valderice, che ha detto «L'arresto di Messina Denaro mi ha scombussolato anche perché avevo letto dei documenti in cui si ipotizzava che potesse essere la sua mano quella che ha colpito mio padre. Vorrei incontrarlo e parlargli perché mi spiegasse tante cose. che sono rimaste oscure e che forse non emergeranno mai». Il 500 in piazza questa mattina per dire grazie alle forze dell'ordine per l'arresto della ditante. Continuano i festeggiamenti per quella che appare essere una reale liberazione lì a Castelvetrano dove questa mattina quasi 500 persone, soprattutto studenti degli istituti scolastici, cittadini, hanno preso parte al sit-in per esprimere il loro grazie alle forze dell'ordine. e alla magistratura. Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, quella di oggi è la seconda iniziativa organizzata a Castelvetrano. Un'altra si era tenuta nella serata di ieri, in quella che è la città natale del BOS. Felicità, questo è il sentimento provato dai tanti ragazzi che sono scesi in piazza. Noi abbiamo parlato con Miriam Licata, vicepresidente del Comitato Provinciale Studentesco. La situazione si è svolta a Castelvetrano presso il sistema delle piazze e speriamo che con la voce che abbiamo avuto noi oggi tutti i ragazzi presenti possiamo dare inizio ad una conclusione di questa mafia. Parliamo ancora della cattura di Matteo Messina Denaro con le opinioni dei cittadini. Ne abbiamo intervistati a Catania, ce ne parla Lucio Di Mauro. Una grande vittoria dello Stato, una grande vittoria dei Carabinieri del Rosso, una grande vittoria della gente che va contro la mafia. Stiamo parlando dell'arresto del super-bosso ex-salatitante Matteo Messina Denaro. Abbiamo chiesto in giro cosa ne pensano le persone. E cosa ne pensate dell'arresto di Matteo Messina Denaro? Quando ha esercitato qui in Sicilia io ancora non ero nata, quindi diciamo è stata una bella conquista per, non so se dire per i Carabinieri, quindi anche per lo Stato. Non conosco tutto il male che ha fatto, però è bello che una persona del genere sia stata finalmente messa dietro le sbarre dove merita di stare. Quindi è stata diciamo una vittoria dello Stato? Ma io la vedo principalmente una vittoria delle forze dell'ordine e poi dello Stato. Non credo che ci sia qualcosa di organizzato perché sarebbe abbastanza squallido sapere che è stata una cosa organizzata apposta, quello di prenderlo in questo momento dopo 30 anni di latitanza non sarebbe più una vittoria ma sarebbe più una sconfitta. Ringraziare le forze dell'ordine perché ci sono persone che lavorano giorno e notte. Per una volta intanto dobbiamo festeggiare senza pensare a quello che magari ci può essere dietro. Lo Stato ha vinto, però in qualche modo è stata un po' anche una sconfitta perché 30 anni sono troppi, troppi. E quindi possiamo rendere giustizia adesso a Falcone, a Borsellino, finalmente. Dopo 30 anni, è possibile che dopo 30 anni sia arrivato solo adesso il momento di arrestarlo? Io credo che si sia concesso alla giustizia ma questo credo che lo pensino in tanti. Con Giletti un video dove io l'ho visto e già mi dà delle idee un pochettino. E' questa la domanda che molti si fanno. E' possibile che era già tutto programmato? Che era arrivato il momento che veniva arrestato adesso? E che lo vuol dire io? La Commissione regionale antimafia ha adottato il nuovo regolamento interno che è stato presentato questo pomeriggio alla stampa. Sentiamo di cosa si tratta nei dettagli nel servizio. E' un regolamento più rigoroso ma equilibrato. La Commissione antimafia si è dotata di nuove regole interne per tutti i componenti che sono state presentate questo pomeriggio alla stampa. Tra le novità introdotte, la prima, le previsioni di incompatibilità non valgono solo per i componenti dell'Ufficio di Presidenza ma per tutti i membri della Commissione antimafia. La seconda è l'incompatibilità con la carica di membro della Commissione dell'Ufficio di Presidenza in caso di imputazione per i reati previsti. Dalla legge Severino. La terza è l'incompatibilità che scatta comunque in caso di condanna definitiva per una pena supera da due anni a prescindere dal tipo di reato. E' stato applicato un principio di garantismo ha detto il Presidente della Commissione, Antonello Cracolici. Prevedere una distinzione tra casi gravi e vicende minori significa che evitare di gettare la rete a strascico non è lo stesso ad esempio essere imputato per corruzione o per violazione del codice della strada. Abbiamo voluto disciplinare in maniera, come dire, rigorosa ma nello stesso tempo con ancoraggio alle regole della democrazia. La legge Severino è appunto una legge dello Stato. Abbiamo voluto disciplinare meglio e in maniera più seria questa norma proprio perché chiunque fa parte alla Commissione Antimafia deve essere al di sopra dei principi di apparente di percezione della legalità. Il nuovo regolamento che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana interviene anche su altri punti della maggiore attenzione per la privacy e la riservatezza alla segretezza per alcuni atti nell'attività della Commissione. La priorità sarà il tema della confisca dei beni. La Commissione Antimafia, dopo aver audito i responsabili del centro Piola Torre, ha comunicato che sosterà l'iniziativa della marcia contro la mafia Bagheria Casteldaccia in programma il prossimo 24 febbraio coinvolgendo e sollecitando le amministrazioni comunali siciliane. Il parlamentare Antony Barbagallo del Partito Democratico e il deputato Luca Cannata dei Fratelli d'Italia lasciano l'Assemblea regionale siciliana per il seggio alla Camera. A loro posto subentrano Ersilia Saverino, prima dei non eletti nella lista del PD nel Collegio di Catania e Carlo Auteri, primo dei non eletti nella lista Fratelli d'Italia nel Collegio di Siracusa. Con molta emozione, il parlamentare del PD Barbagallo ha salutato i colleghi d'aula e ha ricordato gli albori della sua carriera fino al periodo storico attuale. Rimaniamo ancora all'Assemblea regionale siciliana perché da oggi non è più senatore della Repubblica Gianfranco Miciche che ha scelto quindi di rimanere all'Assemblea regionale siciliana. Però per l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana non è una bella giornata perché adesso a lasciare il gruppo misto di Fratelli d'Italia all'As è Mancuso. Il punto nel servizio. Miciche sempre più solo, un leader solo, nel vero senso della parola. Michele Mancuso passa con gli azzurri. Il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miciche perde anche l'ultimo deputato regionale che gli era rimasto a fianco, Mancuso per l'appunto, che ha deciso di aderire al gruppo parlamentare di Forza Italia all'Ars che fa riferimento al governatore Renato Schifani. Il grande senso di responsabilità nei confronti di un elettorato e di un territorio che, alle scorse elezioni regionali, ha fatto una precisa scelta impone di trovare una sintesi tra quello che è stato garantito in campagna elettorale e quello che è il mio ruolo di rappresentante dei cittadini all'interno delle istituzioni, ha detto Mancuso. Intanto, oggi in Senato, il presidente Ignazio Larussa ha comunicato delle dimissioni da Palazzo Madama del coordinatore siciliano, che resta dunque in carica solo all'Assemblea regionale siciliana. A subentrare a Gianfranco Miciche in Senato la siracusana Daniela Ternullo. L'Ars ha dato il via al documento economico finanziario regionale e alla sua nota di aggiornamento. Le previsioni per il 2023 parlano di decrescita. Facciamo il punto nel servizio di Veronica Pulisi. L'Ars ha dato il via libera al documento di programmazione economica e finanziaria regionale e alla sua nota di aggiornamento. Un documento, ha detto l'assessore regionale all'economia, Marco Falcone, che indica un piano di sostegno all'economia già in fase di attuazione attraverso gli aiuti alle imprese e alle famiglie già stanziati, la moratoria sui mutui IRFIS e i sostegni a comuni e agli enti locali su bollette e progettazioni. Il nostro orientamento, che si tradurrà a breve anche nelle ulteriori misure offerte con la legge di stabilità, è di fronteggiare la prevista recessione con un'imponente emissione di denaro nel mercato siciliano. Intendiamo lavorare con rigore alla regolarizzazione dei documenti contabili della regione, così come da indicazioni dalla Corte dei Conti. Archiviata questa fase, adesso ci concentreremo su bilancio e legge di stabilità, afferma il presidente della regione, Renato Schifani, e gli obiettivi sono ben delineati, spinta alla creazione di nuovi posti di lavoro, sostegno alle imprese e un forte supporto agli enti locali. Per Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Lars, dà la regione un documento senza progetti e visione. Su questo è stata costruita una legge finanziaria che non concede respiro né alle imprese né ai cittadini. Grazie invece alla nostra azione, riporta invece un comunicato di Sicilia Vera e Sud Chiama Nord, sono state ripristinate le corrette fasi procedurali che devono portare il Parlamento all'approvazione della legge di bilancio e della legge di stabilità. Rispetto alla nota di aggiornamento del documento invece chiediamo all'assessore Falcone di chiarire il dato riferito alla crescita del prodotto interno lordo in ambito regionale riferita al 2022 che era stimato in una crescita del 3,3%. Non abbiamo capito sulla scorta di quale elemento il Governo oggi possa ipotizzare una crescita così sproporzionata del PIL. Su questo punto conclude la nota. Chiediamo chiarimenti. Si saprà domani mattina sullo sopro dei benzinai del 25-26 gennaio è confermato al termine di un nuovo incontro con il Ministro alle imprese al Made in Italy Adolfo Urso. Sentiamo Valentina Frasca. Gas in picchiata dall'inizio dell'anno con il prezzo in calo del 32% che fa bene sperare per un prossimo taglio delle bollette. Ma il clima resta atteso sul fronte della benzina con i gestori divisi dopo il tavolo tecnico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. ma in sostanza uniti nel confermare o congelare lo sciopero anche se la decisione definitiva è attesa per domani mattina dopo un nuovo incontro con il Ministro Adolfo Urso che dal canto suo si dice ottimista. C'è sempre margine per migliorare afferma non conosco decreti che non siano stati migliorati in Parlamento con riferimento allo sblocco dell'avvertenza contro il decreto legge sulla trasparenza dei prezzi di verde e gasolio. Contrari allo sciopero i consumatori che invitano i gestori a non danneggiare i cittadini ma collaborare per combattere le speculazioni. I benzinai sono liberi di fare tutti gli scioperi che vogliono ma piangono per niente afferma Massimiliano Dona presidente dell'Unione Nazionale Consumatori spiegando che si lamentano delle multe esose ma queste sono scese anche se di poco e poi la sospensione dell'attività non scatta in automatico dopo la terza violazione e per arrivare alla quarta potrebbe passare bene che vada anche mezzo secolo. Per assoutenti lo sciopero indetto dai benzinai è del tutto incomprensibile e finirà per danneggiare solamente i cittadini. Uno sciopero del tutto inutile che avrà come unica conseguenza quella di creare un danno ingiustificato agli incolpevoli cittadini dice il Coda Cons secondo il quale le ragioni della serrata appaiono del tutto sbagliate. Minacce di morte e violenze un 58enne è stato arrestato a Catania. In due occasioni gli ha puntato un coltello alla gola costringendola poi ad inginocchiarsi e a chiedere perdono. Ha inveito contro di lei con frasi offensive e minacce di morte ti schiaccio la testa ti devi nascondere come topi ti faccio scappare da Catania. È finito l'incubo per una 50enne catanese dopo l'arresto da parte dei carabinieri dell'ex compagno 58enne per sequestro di persona e atti persecutori. L'uomo si sarebbe reso responsabile nell'arco di due anni di ingiurie e limitazioni della libertà personale minacce e percosse. La relazione sentimentale tra i due iniziata nel settembre 2020 anche con periodi di convivenza è stata caratterizzata sin dall'inizio della gelosia morbosa dell'uomo che ha convinto la donna a lasciare il lavoro per collaborare nella sua attività commerciale. Il 58enne secondo quanto documentato dalle forze dell'ordine gli ha fatto terra bruciata facendola allontanare dalle sue conoscenze e dalle amicizie. La donna inoltre in una decina di episodi sarebbe stata presa in ostaggio dal 58enne che avrebbe chiuso a chiave la porta del suo negozio. Dopo aver deciso di interrompere la relazione i due si sono incontrati alla fine del mese di dicembre scorso per la restituzione di alcuni effetti personali. In quella circostanza l'uomo l'ha prima accusata di intrattenere un'altra relazione e poi è piombato improvvisamente all'uscita del suo nuovo posto di lavoro aggredendola con due forti schiaffi al volto. Un'escalation di violenze terminate con la denuncia della donna che ha vinto ogni ritrosia ponendo appunto fino all'incubo. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. La polizia di Stato di Mestina ha perquisito l'abitazione di un noto pregiudicato sono stati sequestrati oltre 10 kg di stupefacenti di cui 7 di marijuana 3 di acisce e quasi 100 grammi tra cocaina e crack droghe in parti già preconfezionate e pronta per essere smerciata. L'uomo è stato anche trovato con 2.000 euro in contanti percepiva il reggito di cittadinanza la droga si è messa sul mercato avrebbe fruttato 54.000 euro. Andiamo a Palermo con la nave GNV attraccata al porto e da sabato è coinvolta da un incendio finalmente tecnicamente il rogo è stato sedato vediamo il servizio è sotto controllo la situazione a bordo della nave superba da sabato attraccata a porto di Palermo per un incendio divampato durante le operazioni di imbarco di mezzi e passeggeri la nave doveva raggiungere Napoli adesso la situazione si è stabilizzata e si dovrà procedere con lo svuotamento delle acque che hanno consentito di spegnere l'incendio in una prima fase quindi con la stabilizzazione della nave una volta che sarà svuotata il raffreddamento perché è evidente che è surriscaldata poi la messa in sicurezza e infine lo spostamento in un luogo in cui si potrà intervenire sul garage numero 4 che oggi è ancora chiuso ermeticamente in modo che non possa entrare ossigeno e alimentare qualche focolaio sono informazioni divulgate da Pasqualino Monti presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale è una situazione complessa aggiunge Monti che è stata affrontata in maniera straordinaria dai vigi del fuoco e dalla capitaneria di Porto che ogni giorno stanno combattendo per cercare di riportare la sicurezza sia a bordo della nave che in banchina l'incendio dunque è tecnicamente spento i vigi del fuoco hanno lavorato incessantemente ha detto il comandante dei vigi del fuoco di Palermo Sergio Inzerillo stiamo valutando le tecniche di intervento fermo restando che anche l'incendio è spento per carenza di ossigeno ma potenzialmente covante le temperature sono basse la compagnia di navigazione sta lavorando per svuotare l'acqua dalla prua dice ancora Inzerillo ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria siamo da voi tra poco ancora ben trovati in studio per la seconda parte di MTG riflettori puntati sulla sanità nel territorio ebleo con la conferenza dei sindaci alla presenza del commissario Fabrizio Russo dell'ASP di Ragusa conferenza dei sindaci questa mattina indetta dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì su richiesta del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna con il commissario dell'ASP 7 Fabrizio Russo riflettori puntati sulla situazione in cui versano i servizi di emergenza urgenza sanitaria del territorio ebleo al centro dell'incontro l'iniziativa è da intraprendere per un potenziamento dei servizi sanitari tante le denunce dall'assenza dei medici nei PT e della provincia fino all'insufficienza del numero dei medici nei 3 pronto soccorso degli ospedali di Modica Ragusa e Vittoria per giungere alla mancata piena operatività del reparto di pediatria a Ragusa su quest'ultimo punto il commissario Russo dice metteremo in campo tre azioni metteremo in campo tre tipi di azioni un'azione di breve che consenta insomma di affrontare un problema emergenziale con gli strumenti che l'azienda ha a disposizione quindi chiedendo verificando la disponibilità a ricevere carichi aggiuntivi da parte delle risorse che abbiamo disponibili all'interno dell'azienda con un'azione di medio periodo che è quella relativa al reclutamento e quindi all'attivazione delle procedure concorsuali e con un'azione a lungo termine che riguarda la revisione organizzativa di tutto il percorso Russo interviene sulla mancanza dei medici nei pronto soccorso gli strumenti che abbiamo sono quelli previsti alla norma e quindi su quelli possiamo fare riferimento bisogna capire se c'è un problema di attrattività del territorio dato da un eccessivo carico di lavoro che nasce dal fatto che la distribuzione del carico forse è su un numero di teste che non è ancora coerente con la dotazione organica e quindi da dobbiamo lavorare sui concorsi bisogna capire se ci sono limiti strutturali che vanno affrontati con gli investimenti adeguati molte le battaglie sostenute dalle associazioni per una migliore mobilità e un migliore accesso nei luoghi a tutti quando parcorriamo le strade di Catania non occorre essere sensibili al tema della mobilità per accorgersi delle difficoltà nel muoversi in città se guardiamo tutti questi problemi con gli occhi di chi ha un handicap fisico o una mobilità ridotta essi si trasformano in muri siamo stati invitati al commissario straordinario portoghese perché sin dalla sua insediamento abbiamo le associazioni di categoria compresa la mia che rappresento abbiamo ottenuto dopo mesi di battaglie questa deroga affinché registrandosi sul portale della MTS anche le persone alla guida di un'autovettura per disabili appunto può transitare da via Etnea così come dalle altre aree pedonali è una conquista di cultura e di diritti che noi porteremo avanti anche in futuro affinché la nostra bella città possa essere per tutti così come Sant'Agata non per molti ma per tutti visto che ci avviciniamo alle festività agatine vuole rappresentare questo significato questa cultura del cambiamento dove dobbiamo ragionare in termini di tutti volevo invitare nel frattempo colgo l'occasione a partecipare a quei momenti appunto di inclusione sociale delle festività agatine e sono il 2 al San Marco dove porteremo appunto Sant'Agata nel senso il messaggio ai bambini della pediatria il 3 in piazza Stesicoro ci sarà un'area riservata alle persone con disabilità tutte e il 4 in piazza dei martiri un'altra appuntamentaria riservata Veronica Buscema Comisana Makeup Artists andrà a Sanremo per truccare i VIP del mondo dello spettacolo approderà Sanremo per truccare i cantanti in gara e VIP del mondo dello spettacolo Veronica Buscema Makeup Artists Comisana ha coronato il suo sogno è un riconoscimento che sancisce la professionità e la determinazione nei lunghi anni spesi tra master e corsi e tra sacrificio e gioie tra queste rientra la selezione per il festival della canzone tra le kermesse più prestigiose che quest'anno dal 7 all'11 febbraio vedrà sul palco sempre Amedeus affiancato da Gianni Morandi e delle co-conduttrici Chiara Ferragni Paola Egonu Chiara Francini e Francesca Fagnani nel curriculum di Veronica ci sono partecipazioni come truccatrice al festival del cinema di Tormina con corsi di bellezza e sfilate di moda lavorando come grazie a Cucinotte Elisabetta Gregoracci e Matilde Brandi per citare i nomi delle donne tra le più belle del cinema e dello spettacolo e all'istituto la cultura a comiso che abbiamo intervistato Veronica Buscema impegnata con un gruppo di studentessere nell'apprendimento delle principali nozioni del make-up l'Accademia Grandi Maestri del make-up siamo veramente siamo cresciuti con loro sono cresciuta ho imparato tanto e ho fatto tante bellissime esperienze e questa è una di quelle tipo di trucchi utili di dressi perché la Ferragni parliamo che la nostra Accademia ci ha sempre inculcato il nostro proprio metodo di truccare in modo naturale poi sarà poi la conduttrice oppure la cantante chi ovviamente ci assegnano che daremo ovviamente la preferenza di come desidera essere truccata quali sono le tendenze quest'anno sul palco del festival secondo te? secondo me i colori più azzeccati al festival e considerando che siamo a febbraio colori molto molto caldi la sindaca Mariana Schembar l'ha accolta al comune per congratularsi con lei e rivolgerle un grande in bocca al lupo le previsioni meteo per i prossimi giorni lasciano presagire il grande freddo dopo un inverno fino ad ora a mite e con temperature quasi sempre sopra la media un vortice di aria artica sta per investire l'Italia a partire dal nord per poi scendere lungo tutto lo stivale portando ovunque pioggia neve e freddo il maltempo si concentrerà nel weekend sulle regioni meridionali dove si prevedono un crollo delle temperature e nevicate fino ai 300 400 metri di quota già oggi l'arrivo di aria più umida è responsabile di un lento aumento della nuvolosità e di piogge deboli in serata domani il ciclone tornerà verso il settentrione ma da venerdì il freddo e la neve torneranno a scendere nuovamente verso il sud e sabato localmente è previsto anche molto vento piogge e rovesci anche a carattere temporalesco interesseranno tutta l'isola il canale di Sicilia sarà di conseguenza molto mosso è davvero tutto con questo servizio grazie per la corte d'attenzione a voi tutti buona serata grazie a tutti